E' destinato purtroppo a salire il bilancio delle vittime delle inondazioni che stanno flagellando la Serbia e la Bosnia. Finora sono stati recuperati i corpi senza vita di almeno 20 persone, ma si teme appunto che il numero possa aumentare con il ritiro delle acque. I due paesi balcanici non vedevano piogge ed esondazioni di questa entità da 120 anni a questa parte. Migliaia inoltre le persone costrette ad abbandonare le proprie abitazioni e soccorse in diversi centri di accoglienza. Abbiamo perso tutto, siamo venuti via con poche cose e i vestiti che abbiamo addosso dicono un po' tutti gli evacuati. I soccorritori sono venuti a prenderci con le barche, il livello dell'acqua era già molto alto e non era possibile muoversi, eravamo bloccati nelle nostre case, ormai tutte allagate.